Il 90% delle coppie ha l'incubo che il proprio matrimonio sia noioso. Ti sembra difficile avere un matrimonio con ospiti di tutte le età che fanno festa? Proprio per questo ho creato per te un video esclusivo gratuito dove ti rivelerò come annientare la noia al tuo matrimonio. In questo video scoprirai quello che nessuno vuole dirti per evitare di fare scelte sbagliate e trasformare il tuo giorno in una festa travolgente e impossibile da dimenticare. Clicca subito sul primo link in descrizione qui sotto, scopri di più e ti aspetto dall'altra parte. Ciao!